Eccoci qui ragazzi in un nuovo video, in questo video parleremo di Bitcoin perché, ebbene sì, Bitcoin sembra che abbia rotto la resistenza diagonale che aveva portato Bitcoin negli ultimi tre mesi a continuare una fase di downtrend facendo minimi su minimi. Quindi in questo video andremo a cercare di capire se questo è solamente un fake out e quindi il prezzo tornerà a scendere, oppure se effettivamente ci stiamo accingendo nuovamente ad un bull market, quindi ad un'altra gamba in salita e dirò anche personalmente quali sono i livelli che sto guardando, quindi supporti e resistenze su cui mi sto concentrando. Ovviamente concluderemo con il trade che ho recentemente aperto e quando soprattutto ho intenzione di chiuderlo. Come sembra ancora prima di cominciare ragazzi se vi piacciono questa tipologia di contenuti quello che vi chiedo di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere. Direi di non perderci più in chiacchiere, andiamo a vedere dove eravamo rimasti nell'ultimo video, quello che è successo e quello che potrebbe succedere. Ok siamo sulla piattaforma di Atani, ricordo ragazzi tra l'altro che su Atani si può fare qualsiasi sorta di trade, di acquisto, vendita di Bitcoin e di altre cripto, posso acquistare e vendere in decine e decine di exchange il tutto tramite un'unica piattaforma e soprattutto Atani è una piattaforma che semplifica tutta la parte fiscale, quindi lascio il link sotto in descrizione e anche il video tutorial su Atani. Detto questo dove eravamo rimasti nel mio ultimo video su Bitcoin, allora nel mio ultimo video eravamo rimasti che ho aperto un trade, una posizione long intorno ai 36.000 dollari e che avevo un take profit a 39.300 dollari. Sfortunatamente il prezzo non è arrivato a 39.300, è arrivato a 39.270 e quindi ho chiuso il trade un po' al di sotto, intorno ai 38.500. Successivamente sempre in quel video ho detto che avevo una posizione short al limite, quindi che sarebbe aperta automaticamente nel momento in cui Bitcoin avesse toccato i 39.300. Però come dicevo sfortunatamente ci siamo avvicinati ma non l'abbiamo toccato, quindi il prezzo è risceso, non sono riuscito ad aprire nessuna posizione short. Ma qui arriva la parte bella ed interessante, infatti che cosa è successo negli ultimi giorni? È successo che Bitcoin ha deciso di mettere non la quarta ma la quinta e di rompere questa resistenza diagonale di cui avevamo parlato nei miei video precedenti molto molto importante da rompere per andare ad interrompere questo trend negativo durato ormai più di tre mesi. Infatti come abbiamo detto nei miei video precedenti questa resistenza diagonale era la più importante in assoluto da rompere per riprendere a salire con un certo volume. Negli ultimi mesi Bitcoin ce l'ha provato più e più volte ma sempre senza successo. Ora finalmente ce l'abbiamo fatta. Oltre ad aver rotto questa resistenza diagonale Bitcoin ha anche rotto quella che era diventata una resistenza e prima era un importantissimo supporto che andava dai 41 ai 42 mila dollari. Quindi ragazzi nel giro di pochi giorni la situazione è cambiata notevolmente. Infatti in questo momento Bitcoin dal minimo toccato di 32.900 è salita di un 38-39% al picco massimo dei 45.500. La domanda qui diventa ok in questo momento sono bullish quindi mi aspetto che il prezzo ricomincerà e tornerà a salire magari fino a toccare i 50.000 o anche oltre oppure sono bearish e quindi sto per aprire una posizione short. Allora personalmente quando ho visto il prezzo di Bitcoin che stava accumulando in questa fase in un time frame basso era facile comprendere che il prezzo avrebbe iniziato a salire. Quindi che cosa ho fatto? Ho aperto un trade long a 41.500 dollari. Il trade in questo momento è in profitto, non l'ho chiuso e in questo momento non ho intenzione di chiuderlo. Quindi la mia aspettativa è che il prezzo potrebbe riprendere a salire. Ovviamente non sarebbe una salita priva di correzioni. Infatti che cosa ho fatto? Mi sono impostato uno stop loss a 41.300 quindi nel momento in cui il prezzo dovesse crollare andrei anche a fare una leggera perdita. Ma perché quindi ho deciso di tenere questo trade aperto e di non liquidare dei buoni profitti e addirittura mi sono messo lo stop loss sotto il mio punto di entrata. Quindi se il prezzo dovesse crollare e scendere sotto i 41.000 andrei anche a fare una leggera perdita. Bene il motivo sta nei livelli perché se andiamo a vedere dei time frame un po' più bassi in questo momento troviamo un forte supporto che va circa dai 38.000 dollari e 8 ai 39.000 dollari e mezzo. Troviamo un altro supporto intorno ai 41.500 dollari che è il prezzo in cui sono entrato. Troviamo una prima resistenza sostanziale intorno ai 45.500 dollari. Quindi io personalmente mi aspetto che il prezzo potrebbe riprendere a salire. Questo è il motivo per cui ho deciso di lasciare questo trade aperto. Se il prezzo dovesse crollare non fa nulla. Però ovviamente voglio lasciare questo trade aperto perché nel momento in cui dovessimo riprendere a salire e andare a rompere la resistenza dei 45.500. Ecco che la prossima resistenza sarebbe intorno ai 46.800 dollari e superata anche quella personalmente non mi stupirei se andassimo a ritestare i 50.000 e oltre possibilmente anche i 51.000-52.000. A quel punto nel momento in cui questa situazione che è la situazione ideale almeno per me dovesse verificarsi andrei a chiudere il mio trade intorno ai 50.000 dollari. In questo modo andrei ad ottimizzare di parecchio i profitti. A dire la verità nel momento in cui dovessimo risalire intorno ai 47.000-48.000 almeno la metà della posizione la chiuderei. Però il mio trade lo chiuderei totalmente intorno ai 50.000 dollari. Quindi ragazzi questi sono i livelli che sto guardando personalmente perché sto cercando di fare dei long e non degli short. Bene per il semplice motivo che avendo rotto la resistenza come dicevo dei 41.000 la situazione è cambiata notevolmente. Quindi the trend is your friend until the end. Quindi segui il trend quando fai dei trade. Ecco il trend in questo momento mi dice di guardare più delle posizioni long rispetto che delle posizioni short. Nelle ultime settimane ho aperto molti più short. Invece ora sono in attesa di ritracciamenti del prezzo per andare ad aprire delle posizioni long. Ovviamente a tenere sempre in considerazione che è una situazione comunque delicata perché il mercato azionario non è la miglior condizione possibile perché il prezzo è già salito nel giro di pochi giorni di un 25% nel giro di 2-3 giorni. Quindi comunque bisogna stare attenti. Quindi nel momento in cui si volessero fare dei trade mi raccomando sempre degli stop loss. Lascio anche sotto in descrizione oltre che il link di Atani e anche il link per Bybit nel momento in cui uno fosse un trader esperto e volesse fare dei trade a leva. Concludo dicendo che io in questo momento ho già aperto la mia posizione long come abbiamo visto a 41.500 dollari. Però questo ovviamente non è un consiglio finanziario ma se non avessi aperto questa posizione a 41.500 e volessi aprire una posizione long proprio perché il trend potrebbe essersi effettivamente invertito e Bitcoin potrebbe proseguire la sua salita. Non entrerei a questo livello ai 43.500-44.000 perché a mio avviso è troppo rischioso ma cercherei un entry su un supporto. Quindi cercherei di entrare long intorno ai 41.500-42.000 dollari. Ovviamente anche in questo caso nel momento in cui uno volesse fare dei trade consiglio sempre degli stop loss non troppo lontani dal punto di ingresso proprio perché questo è un periodo come abbiamo notato di grande volatilità quindi non ha assolutamente senso rischiare troppo. Quindi ragazzi questi sono i livelli che sto guardando. Questa è la strategia che voglio implementare. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi avete intenzione di aprire un trade o magari se avete già aperto qualche trade o qualsiasi tipo di strategia volete implementare. Se il video vi è piaciuto come al solito non dimenticate di mettere un bel mi piace ed iscrivervi al canale. Io direi che anche per oggi è tutto. Noi ci rivediamo molto molto presto nel prossimo video.